Ciao a tutti, hello everyone! Io sono sorella Cook e sono qui come una missionaria e benvenuti a questo inglese facile. Oggi io voglio spiegare un po' dei pronomi demonstrativi in inglese. Questi sono molto facili perché ci sono soltanto quattro. Quindi c'è this che significa questo, come le cose che sono vicino, come questa tazza, this mug. Anche c'è that che significa quello, come le cose che sono più lontano, come quel libro, that book. Per plurale è anche facile. Per le cose che sono vicine, vicini, che sono plurale, come queste tazze, sarebbe these mugs. Diciamo these per queste. per le cose che sono più lontane. Per le cose che sono più lontane, noi diciamo those. Come quei libri, those books. Quelli, those. Queste, these. Questo, this. Quello, that. Al senso, se voi volete imparare di più, noi facciamo questo gruppo di inglese gratis qua all'Aquila ogni martedì e giovedì sera dalle 19 fino alle 20 a via Avezzano 11C Scala D. Alla prossima!